ciao ragazzi da vittorio nell'altro video non abbiamo parlato di manuel lazari migliore in campo credo siamo tutti d'accordo su questo avevo detto lo scorso anno che secondo me lazari poteva tranquillamente fare il terzino della difesa a 4 ma questo video non è per dirvi ve l'avevo detto sono bravissimo ci capisco tanto di calcio ma è per esaltare il lavoro che ha fatto manuel lazari i primi mesi dello scorso campionato ce lo ricordiamo tutti lazari è partito benino ma ha avuto delle difficoltà tant'è che è finito in panchina poi piano piano a gennaio ha iniziato a giocare ha dimostrato di aver compreso i movimenti meccanismi della difesa 4 e dalla è stato un crescendo quest'anno lazari è partito benissimo in realtà anche lo scorso anno hai assegnato all'esordio quest'anno il gol non va dato a lui perché è un lato gol anche se parlando di fantacalcio mi avrebbe fatto rosicare tantissimo non ha fatto tutto lazari non gli viene dato nel gol nell'assist però lazari ha fatto un partitone non solo in fase offensiva ed è questa cosa importante in fase offensiva è stato devastante io dico sempre sulla fascia destra lazari e felipe anderson fanno un duo molto 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 importante molto molto pericoloso anche se ieri felipe anderson non ha fatto benissimo fase offensiva mi è piaciuto un fase difensiva però un fase offensiva secondo me soprattutto quando c'hai lazari che uno che ti porta che poche sale e ti porta via l'uomo tu felipe anderson devi cercare di più l'uno contro uno invece l'ha fatto molto di più lazari che felipe anderson e l'abbiamo visto un sacco di volte lazari è andato via ecco da brasiliano vorrei un po più di iniziativa un po più di personalità ma quello che mi piace sottolineare che lazari nel secondo tempo dopo il gol del pareggio ha fatto un recupero fantastico ha fatto una diagonale strettissima tant'è che finita a sinistra chiudere mi sembra il tiro di arnauto e ci abbotta sicura ecco queste sono le cose da sottolineare di manuel lazari perché manuel lazari in fase offensiva è forte e dalla difesa 3 a 4 cambia poco ma è la fase difensiva che cambia tanto e lazari ha fatto ieri un lavorone incredibile ed è una cosa da sottolineare perché siamo un momento di incredibile carenza di tessini destri beh lazari è sicuramente uno dei migliori in italia obiettivamente uno dei migliori e secondo me può ancora crescere ma la partita di ieri è stata sicuramente molto molto incoraggiante per manuel lazari e io credo che adesso che troverà il ritmo che ritroverà il ritmo partita le cose andranno ancora meglio me lo auguro perché gli esterni nel 4 di 3 sono fondamentali però voglio sottolineare anche lavoro sporco di zaccagni perché la lazio ha giocato per 70 minuti con un centrocampo a 4 con i due esterni che erano felipe anderson e zaccagni ecco zaccagni anche lui mi aspettava un po meglio in fase offensiva anche se nel secondo tempo è arrivato vicinissimo al gol però in fase difensiva anche lui ha fatto delle coperture inaspettate da un giocatore come zaccagni ecco il sacrificio lo spirito di sacrificio di questa squadra mi ha impressionato soprattutto da alcuni giocatori di cui potevi non aspettartelo shire un mobile lo sai ma zaccagni è un giocatore da cui non ti aspetti certe cose e invece bene mi è piaciuto moltissimo ovviamente se il migliore in campo è stato lanzari il peggiore deve essere maximiliano ve l'ho chiesto un esordio così brutto nella lazio qualcuno mi ha detto rolando bianchi qualcuno mi ha detto fernando buslera sicuramente maximiliano ha rovinato il suo esordio dopo 5 minuti un cartellino rosso stupido ingenuo perché sì arnatovic stava andando verso la porta ma tu sei uscito fuori con troppa frenesia sei uscito fuori eccessivamente potevi aspettare un secondo e bloccare tranquillamente quella palla in area di rigore devo dirvi che anche a velocità normale mi sembrava che fosse uscito fuori dall'area di rigore purtroppo c'è il VAR che ha confermato l'ingenuità del portiere ho avuto l'impressione che maximiliano volesse strafare e questo è un pericolo che soprattutto per i giovani esordienti capita spesso ho scritto su twitter che cercavamo un portiere che uscisse a differenza di stracoscia beh forse abbiamo esagerato maximiliano è uscito troppo però mi sembra un portiere che voglia gestire l'area di rigore che voglia far sua l'area di rigore per cui cerca di uscire molto con i piedi in uscita alta e questo è sicuramente un segnale importante però ovviamente c'è anche un limite e ieri purtroppo maximiliano lo ha superato siamo alla prima di campionato avrà tempo per rifarsi però certo che un esordio così non è facile adesso sarà importante dal punto di vista mentale per maximiliano dimenticare tutto risettare e ripartire da zero perché non è facile dopo un errore del genere ripartire per fortuna la lazio ha vinto questa partita e quindi il portoghese non ha sulla coscienza tre punti però adesso sarà importante vedere come giocherà la prossima partita ovviamente domenica prossima sarà squalificato vediamo se sari darà un'altra opportunità di partire titolare e vedremo come giocherà perché a 23 anni riscendere in campo dopo un errore del genere non è facile vedremo sicuramente la tempra il carattere di questo giocatore che dopo un brutto errore così vedremo come reagirà nella prossima partita e questo ci dirà secondo me molto del portiere portoghese che la lazio ha preso quest'estate ovviamente questi sono i miei migliori in campo lazari e il peggiore in campo maximiliano quali sono i vostri scrivete commenti qua sotto noi ci troviamo dopo con un altro video ciao forza lazio